Mister 5 a 0 per il Brasil, partita già messa in cassaforte nel primo tempo ma quando Pirlog in forma non ce n'è per nessuna Direi di sì, insomma Pirlog è veramente stato di forma ottimo, stiamo facendo bene, praticamente subiamo veramente pochissimi gol e sono contentissimo Riesco a far giocare tutta la rosa e stanno crescendo tutte Mister una partita in meno giustamente perché avete già recuperato, riposato, un punto dal quarto posto, vedete molto bene da vicino le zone nobili della classifica L'obiettivo di inizio stagione, diciamo all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà per assemblare il gruppo, adesso il gruppo si allena con Costanza Vedo una crescita complessiva da parte delle ragazze e le zone nobili sono lì, veramente stiamo a pochissimi punti Il nostro obiettivo come società è quello di agganciare i playoff e speriamo per il meglio Grazie mille mister, buonasera